buongiorno a tutti ragazzi come state e benvenuti qui sul canale di infogira youtube allora oggi cambio di programma ho deciso di cambiare un po la scaletta dei video perché sarebbe dovuto uscire il video relativo ai programmi ma visto che non vi è piaciuto tanto ho deciso per il momento di cambiare argomento poi quel video lì è già fatto e quindi lo pubblicherò successivamente oggi vi voglio far vedere invece una cosa molto interessante che riguarda telegram premessa velocissima io vi faccio vedere questa cosa curiosa che ho scoperto utilizzando l'applicazione di telegram desktop questa applicazione ci sia per windows sia per mac ma la stessa identica procedura la potete fare su un vostro smartphone un vostro telefonino sul quale avete installato l'applicazione di telegram eccoci qui su telegram vi voglio far vedere che telegram offre una funzionalità che è un po nascosta in realtà però è molto utile e cioè la possibilità di poter creare delle cartelle all'interno di telegram che cosa sono le cartelle allora voi vedete qui che noi siamo abituati ad avere una scheda chiamiamola così che si chiama all chat cioè un posto chiamiamola così dove si raggruppano tutte le chat di telegram quindi tutte le chat che io che siano chat di persone che siano canali o che siano gruppi c'è una funzionalità con la quale si possono creare delle cartelle io quando ho fatto una ad esempio che ho chiamato università e quindi che cosa sono andato a creare un'altra scheda dove qui dentro ho deciso io di metterci tutte le chat relative alla università chiaramente voi adesso non lo vedete perché c'è una parte oscurata per questione di privacy però io qua dentro ho tutte le chat relative al tema università vediamo quindi come si fa a creare queste cartelle vedete che siamo qui nella scheda di tutte le chat andiamo quindi sulla voce impostazioni questa rotellina qui che avete anche voi sul vostro telefono poi se avete la versione italiano vedete che tra italiana vedrete che tra tutte le opzioni c'è una voce cartelle chat altrimenti vedrete una voce in inglese che si chiama chat folders noi clicchiamo qui sopra e vedete che c'è scritto crea cartelle per diversi gruppi di chat e passa velocemente da una all'altra vedete che io ne ho già creata una che è quella che abbiamo visto prima della mia università io faccio aggiungi cartella personalizzata gli do un nome ad esempio prova giusto per vedere e posso decidere di aggiungere una chat in questo modo e vedete aggiungi chat e ci dice scegli le chat e i tipi di chat che appariranno in questa cartella io clicco qui aggiungi chat poi vedete o posso scegliere per categoria in questo modo tra gruppi non contatti canali quello che volete oppure supponiamo che io voglio metterci il mio canale infoghiera youtube eccolo qui l'ho aggiunto una volta che aggiungo tutte io clicco su fatto ed ecco che mi dice infoghiera youtube poi posso aggiungere anche più chat perché sennò non avrebbe senso posso escludere delle chat cioè posso scegliere le chat e i tipi di chat che non fanno parte di questa cartella posso scegliere in qual dei due modi aggiungere le chat una volta fatto questo clicchiamo su crea e vedete che qua mi da cartelle università e prova per vederle torniamo indietro andiamo nella sezione chat e vedete che io ho tutte le chat università e la mia cartella prova che ho fatto adesso che contiene il gruppo telegram di infoghiera youtube bene il video di oggi finisce qui fatemi sapere se conoscevate già questa utile funzionalità oppure no noi ci sentiamo alla prossima fatemi sapere qualcosa nei commenti suggerimenti su argomenti da portare miglioramenti critiche o cose di questo tipo io vi saluto e ci sentiamo prossimamente ciao ragazzi ciao ciao